benvenuti ad ammocus l'avevo detto nel precedente video che l'avrei fatto nella descrizione comunque troviamo una partita pubblica purtroppo non c'è luciano perché perché se andiamo su tier ship lei n a zombies o sono qua e sono il server a si mi muovo con la levetta perché in qualche modo ho cambiato queste robe e babababa quanto sono veloce sono veloce quanto un treno dai proviamo esci bene iniziamo 3 2 1 iniziamo con airship quindi andiamo a vedere quanto sarò pro gamer a un gioco che purtroppo ha perso cioè e sapete che io volevo registrare una versione di friday night funking per mobile il problema è che mobizen mi è crashato ben sentite bene due volte anzi tre se mi ricordo inizio dalla cucina perché ma stiamo giocando al cluedo questa è la galleria la cucina il cluedo ok ponte di osservazione con allora dobbiamo andare alla sala a riunioni wow that's a big boi e dobbiamo andare alla allora dove ci troviamo ma possiamo andare in armeria subito ok andiamo in armeria ok preso preso devo riordinare i fucili ho un atto che li vado a riordinare sicuramente li vado a riordinare tanto io tanto tanto non mi pagano da gennaio non mi paga da gennaio aio guardatemi il video guardatevi il video dei pantallas dove fanno le parodie delle canzoni delle canzoni ovvero musica 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 contro realtà o adoro metterle ok troppo veloce troppo lento troppo e sì però la carta è impossibile da mettere o ok accettato raga sta per succedere un alluvione fra un po non è buono far avere delle alluvioni ah cacchio troppo veloce ah ok accettato ora andiamo nella galleria insicuro che cosa devo fare poi io devo andare su incarichi sala riunioni se allora devo andare devo andare infermeria mi trovo ami dopo manutenzione si trova l'infermeria si però non non perché va raga non è mai buono quando vado in vado vado in lag potrebbe crasharmi mobizen e potrete solamente fare lo short spero dai mobizen resisti ok accettato devi sempre fare lento 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 che ecco devo andare devo andare qua ok scarichiamo il mio tablet si è esattamente quello con cui sto registrando il video dai mi servono i memes che devo andare su reddit e pubblicare e pubblicare cose esterno carica carica dati ma questo ma è difficilissimo spostati non mi paga da febbraio ah io ok ecco ecco dove lo devo no c'è una connessione debole cacchio non abbandonate it's not funny they don't laugh perché è troppo veloce ok abbiamo hanno accettato finalmente devo caricare i dati mosul e ciao ragazzi progressi 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 tutto 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 connessione Amma devo spostare mai visto che la dovevo spostare non quittare a caso diventando un decerebrato qualsiasi C'è finito Vado ad andare alla sala riunioni Cacchio devo letteralmente attraversare devo fare una pista d'ostacoli per poter arrivare alla sala riunioni Ok un atto che vado Ok dove la sala riunioni What the fuck just happen boh in attesa dei lost Bene ci vediamo alla seconda partita Raga io sono uccitato Harry Potter Grazie Harry Potter Hello Oh ecco Se avessi stato bello se ci fosse se fosse comparsa la faccia di Jeff the killer Ma 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 se ma se sarebbe successo veramente a questo momento questo sarebbe stato il mio ultimo video Dai Laviamoci Porcelon Ok Oh qualcuno è abbandonato Perché abbandonate sappiate che io lo sono lo sceriffo cattivo Allora lo salone Devo andare in manutenzione Ok Usa quella dannata scala Dove la dove cosa devo fare in manute Cosa devo fare in manutenzione Pace il suo nome Va riputta Perché Perché ho detto sta roba Ma devo andare su quella Ah ecco Devo andare sulla stanza Ah ecco Ecco Devi Ok allora Pills Phil Che battuta di merda È la battuta di merda più grande che abbia mai sentito PLZ Ok l'ho fatto Ora devo andare su ponte di osservazione e riottenere i cavi Ok avvicino il ponte di osservazione Oh ma il gioco mi va un po' più fluido Per qualche motivo Per un motivo o per un altro Mi va molto più fluido Rispetto a quando Rispetto a prima Mi dispiace perché E perché quando metto il tablet dritto C'è sempre un problema Cioè Ah aspetta qualcuno ha già fatto C'è sempre un problema sul fatto che mi Mi crashi Ok ma che cosa devo fare Non devo fare niente Devo aspettare che venga la schermata finale E fare i saluti finali E dirvi che fra un po' uscirà lo short Sullo scorso video E poi non Ecco Vittoria Ci veniamo al prossimo video Ah è Short